I carabinieri della compagnia di Giuliano in campagna hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura della Repubblica di Napoli di direzione di struttura antimafia a carico di 5 persone in quanto gravemente indiziate a vario titolo dei reati di tentata estorsione continuata e di ricettazione, aggravate dal cosiddetto metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione di stampo camorristico denominata Clam Mallardo, operante sul territorio di Giuliano in campagna. In particolare le condotte estorsive sarebbero state poste in essere tra i mesi di marzo ed aprile 2023 in danno di vari imprenditori edili nei confronti dei quali, mediante minacce, gli indagati avrebbero preteso il pagamento di tangenti per consentire la prosecuzione dei lavori intrapresi nel suddetto comune. A tale scopo per recarsi presso i cantieri venivano utilizzati dagli indagati in motoveicoli cui erano apposte targhe in precedenza sottratte ad altri veicoli. Il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l'emissione di ordinanza cautelare verso la quale sono ammesse i mezzi di impugnazione. I destinatari del decreto di fermo sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.